Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma ci sono 5 km di coda per un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Si tratta di un camion fermo in galleria. Sulla FIPILI rallentamenti per un incidente tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento per l'A1 in direzione Firenze. In A11 per lavori chiuso ai mezzi pesanti lo svincolo di Montecatini in entrambe le direzioni. Sulla statale 1 Aurelia lavori nel tratto compreso tra Maiano in Toscana e Fonte Blanda in direzione Genova. Gli aerei ricordiamo che oggi è in vigore uno sciopero della compagnia Vueling. I voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!